Il Partito Democratico presenterà una mozione di censura a Lars per sfiduciare l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. La decisione è stata presa nel corso di una videoconferenza promossa dal segretario regionale Anthony Barbagallo e dal capogruppo Lars Giuseppe Lupo, alla quale hanno partecipato i deputati regionali del Partito Democratico, il presidente della direzione regionale Antonio Ferrante e i componenti della segreteria regionale del partito. Gli esponenti del PD hanno sottolineato che la Sicilia si trova oggi in zona arancione con i contagi fuori controllo e con la conseguenza di dover chiudere diverse attività commerciali, non certo per una decisione arbitraria del Governo nazionale o a causa del solo numero di soggetti positivi al Covid-19, ma in conseguenza di 21 parametri che la stessa regione siciliana trasmette al Governo nazionale e che mettono in evidenza presunti errori e sottovalutazioni commessi dal Governo regionale nelle misure necessarie al monitoraggio e al contenimento del virus sul territorio dell'isola. Al tempo stesso è sempre più evidente, accusa ancora il PD, il deficit organizzativo nel sistema sanitario regionale. Da mesi il PD ha sollecitato il Governo regionale e in particolare l'assessore alla salute Ruggero Razza affinché la rete ospedaliera e le strutture di supporto all'emergenza Covid-19 fossero riorganizzate per tempo in modo da poter affrontare l'attuale seconda ondata di pandemia che era ampiamente prevista. Gli appelli del PD, contenuti anche in diversi atti parlamentari, sarebbero stati ignorati dall'assessore Razza. Per questi motivi il Partito Democratico annuncia che presenterà all'ARS una mozione di censura per sfiduciare l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza.